bentornati raga in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale ragazzi allora oggi settaggio di questo fucile d'assalto raga che è una bomba per iniziare quattro colpi shottate la gente anche a distanza è veramente una bomba quindi non ci ci schiamo e vi faccio vedere subito ragazzi come dobbiamo settarlo andiamo su volata ragazzi e andiamo a mettere l'hamburger di 20 ragazzi io mi trovo veramente bene con questo silenziatore poi ragazzi andiamo su l'impugnatura e mettiamo la fase 3 come sempre io mi trovo veramente una bomba con questa andiamo a mettere la extra pressione come munizioni ragazzi dopodiché caricatore da 40 colpi perché io quello da 60 colpi lo trovo troppo rallentato dopodiché solito discorso l'ottica ragazzi è soggettiva io mi trovo molto bene con questa ma tanti non la usano neanche quindi vedete voi se metterla o no la calibrazione raga ve lo ripeto anche quella secondo me è una cosa soggettiva perché c'è chi la vuole un po' più veloce c'è chi la vuole un po' più stabile quindi non ve la sto a portare io spero che questo video vi sia stato d'aiuto lasciate like se non lo è stato commentate iscrivetevi attivate la campanellina e sbada bam alla prossima raga bella iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale